Musica Concludiamo questa serie di interventi con Emilio Casellini che è giornalista, fotoreporter, scrittore, narratore e oggi ci parla di nuovi strumenti e nuovi protagonisti tra bellezza, cura e identità tre parole, due delle quali mi danno l'orticaria come ho già detto ma per fortuna in mezzo ci hai messo cura Salve a tutti, buongiorno è bello perché essendo, diventando tutti amici grazie alla paranza posso permettermi di far venire ulteriormente l'orticaria a tutti quanti a partire da Giuliano Volpe questo è il mio per cui dovrei riuscire a muoverlo anch'io allora, sì esatto, perché si sono allora, bellezza, cura e identità io oltretutto ci campo ormai perché ho fatto delle scelte abbastanza forti nella mia vita lasciando tutto quello che avevo e credendo anch'io di vivere di questo di narrazione dei territori e la cosa bella è che sta anche funzionando perché tutto quello che facevo prima l'ho lasciato ed è bello e il motivo è molto semplice perché volevo essere felice e viverci di questo quindi sono scelte, quando parli di quello che fai diventa interessante allora, io voglio parlare però, sono dentro ai tempi però parto da lontanissimo e parlo dei territori, parlo di lavoro, parlo di singularity parlo di intelligenze artificiali parlo di quelli che saranno i lavori del futuro visto che siamo in terre, la Sardegna dove come la Sicilia la disoccupazione è qualcosa di molto grave come problema, come tema e allora, parlando di questo faccio venire subito l'orticaria anche a chi vive qua e vorrei parlare di questo, di questo e di queste lotte che per me sono assurde perché questa battaglia per me è folle perché tutta questa lotta, tutto questo territorio serve per mantenere queste persone e stiamo parlando di un'attività che distrugge il territorio distrugge l'acqua, le menti, i corpi mi sposto, si hai ragione, mi sposto un pochino ecco, la battaglia per l'Alcoa che si combatte da 10-15 anni con un costo che se forse davamo 5.000 euro a testa senza farli lavorare i dipendenti avremmo risparmiato vi faccio vedere un'altra cosa perché ha delle conseguenze però molto gravi sul territorio è come il discorso dell'ILVA, fa male cerco di essere il più delicato possibile ma sarei anche molto più brutale se non fossi qui a casa vostra questi sono, e sapete benissimo cosa significa ed è il sulcis, eccetera sono questi i dipendenti dell'Alcoa che forse, forse potrebbero essere assunti vi faccio vedere però un'altra immagine ed è questo borgo è un piccolo borgo in Puglia si chiama Borgo Ignazia è un adergo è ricostruito da zero raccontando semplicemente quello che è un borgo tipico della Puglia bene, questo è il numero di dipendenti 700 dipendenti facendo cosa? valorizzando il territorio valorizzando le risorse a chilometro zero valorizzando l'identità raccontando storie, tradizioni valorizzando i prodotti della terra migliorando la terra proteggendo la terra, l'ambiente e recuperando persone che continuano a vivere lì ecco, questo incominciando forse cominciamo a capire anche di cosa i numeri e di cosa dobbiamo affrontare come realtà perché secondo me è una follia che continuiamo ad andare in una direzione e non nell'altra e soprattutto in Sardegna e soprattutto in Sicilia vi do un parametro sul turismo il turismo dove vanno le persone l'ho rifatta questa notte anche parlando di alcune cose ieri sera ho rifatto tutta questa notte la presentazione le persone in tutto il mondo quando scrivono holidays in su Google la risposta è questa tutto il pianeta tutto il pianeta vuole andare in Italia cerca, chiede di andare in Italia lo desidera è il paese più desiderato del mondo cioè solo tra Cina, Russia, India e Nord America siamo a 4 miliardi e mezzo di persone non lo so no? cioè un po' sì gli australiani con le Maldives hanno questa fissa con le Malvines insomma, lì lasciamo parte ma poi se noi guardiamo e questi sono slide sulle cifre poi cosa succede davvero noi siamo quelli lì da 49 miliardi di dollari ok? di ritorno e poi guardiamo gli altri Inghilterra, la Francia la Francia 74 ma perché? ma se eravamo noi ma se noi eravamo noi quelli più fighi del mondo come mai gli spagnoli fanno questo ma gli spagnoli guarda l'Australia che fa uguale a noi la Thailandia 63 Macao 40 milioni Hong Kong 37 non voglio riempirvi di dati no inutile non serve memorizzarli però è uno per farsi anche un'idea di cosa succede quanto poi viene ricaduto sulle persone pro capite allora vabbè Macao non c'entra niente è Las Vegas per cui non fa testo ma noi siamo 890 dollari a testa diviso cioè le revenues quanto viene pagato dai turisti in quel posto diviso per il numero degli abitanti cioè quanto aiuta il turismo ma com'è come è possibile che la Francia sia a 1000 la Spagna sia a 1600 e la Croazia sia a 3000 dollari capito? perché hanno fatto una scelta ecco cosa cambia hanno fatto una scelta hanno scelto dove investire borgo della qualità e accogliere i turisti con l'identità o industria di un acciaio che non potrà mai funzionare perché è stata fatta in perdita economica fin da quando è stata concepita e me l'ha confessato la persona dell'Iri che l'ha concepita quindi serviva per dare lavoro come in tutti gli altri perché non puoi fare l'alluminio in un posto dove non c'è acqua energia elettrica e bauxite che sono le cose che servono per farlo è una follia allora però dice vabbè il turismo perfetto parliamo di questo in turismo ecco cosa è successo anche quest'anno no? a parte che i giornalisti dovrebbero mettersi un po' d'accordo sulle cifre perché la stampa che dice 20-30% e gli altri federalberghi meno 7 però insomma non riuscissimo ad avere una cifra insieme però è questo l'anno scorso è stato un calo perché? perché il calo? perché se non offri qualità succede che quando ritornano fuori gli altri paesi del nord Africa Marocco Tunisia Egitto e Albania e Malterreiro salgono ti fottono perché se competi non hai qualità non puoi permetterti di competere con loro e crolla tutto la qualità cos'è? la qualità è c'è una slide che mi ha sbagliato mi manca una slide me la sono persa per strada amen era sì mi mancava la slide su 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 quei turisti che giravano per il mondo chi dava i soldi perché il 10% del turismo mondiale è cinese ma corrisponde al 20% delle revenues dei soldi del turismo mondiale 250 miliardi di dollari ora uno magari potrebbe pensare forse potrebbe farci comodo anche perché è cambiato non è più il turismo di massa oggi sono persone che scudono la storia ne parlavamo ieri è gente che vuole scoprire la nostra identità viene ci rispetta attenzione però tu devi imparare a rispettare loro e faccio un esempio perché siamo idioti questo riguarda l'Italia perché i cinesi bevono acqua calda sono il 10% del turismo mondiale i più ricchi cosa fai? metti un bollitore nelle stanze? no è una cosa inconcepibile non c'è un albergo in Italia cioè i bed and breakfast tutti gli alberghi a 5 stelle compreso quello dove sono io che è un bellissimo albergo non ha il bollitore nelle camere che magari uno si fa anche una tisana non è solo per i cinesi ma però è un simbolo della cura dell'attenzione del capire le cose ai cinesi non devi dare la colazione salata dolce devi darla salata cerca un'esperienza ma cosa cambia? non voglio fare un corso sui cinesi è per dire come quanto siamo dei cialtroni nel non capire quello che c'è bisogno a fare ieri dicevi non ci sono cinesi per esempio no non sono arrivati un paio di cinesi ma ci sono le guide in cinese se quando ci saranno dei ragazzi o immigrati cioè che sono di seconda generazione o dei vostri che offriranno la guida in cinese avremo anche i cinesi che arrivano è un modo che se non cambiamo noi non possiamo funzionare se non hai il pagamento con WeChat non puoi pensare che arrivano eccolo qua si era spostata qua sotto eccola qua scusate era questa la slide quanto vogliamo capire allora ma questo cosa serve per far arrivare il turismo di massa? no assolutamente lo vogliamo evitare anzi ma la cosa bella è che i cinesi non vogliono andare in luoghi affollati non gliene frega niente a un benestante cinese perché è da pezzenti stare in una coda quindi lui del Colosseo non gliene frega niente un posto isolato lo vuole perché ci sta bene lo scopre cosa desiderano i nuovi turisti? arriverò al discorso dell'identità perché guardate un pochino cominciamo a avvicinarci anche al tema sono partito larghissimo ma incominciamo ad avvicinarci anche al tema di quello che stiamo dicendo oggi questo è booking.com non è un comitato etico e cosa ci dice che stanno cercando i nuovi turisti? stanno cercando prodotti di artigianato locale che vogliono muoversi con i mezzi pubblici trovare ristoranti che usano ingredienti locali e evitare le attrazioni turistiche e vogliono vedere punti meno affollati spesso e più interessanti soggiornare in un alloggio davvero unico certificato come occo sostenibile piuttosto che un hotel ora quante di queste caratteristiche trovate nella Sardegna? Paff questo è quello che vorrà il turismo del prossimo ventennio e ce l'hai proprio se te l'hanno fatto e sembra che siano dei profili ritagliati su quello che siamo noi come Italia ma in particolare come Sicilia e Sardegna ma ognuno ha i turisti che si merita se tu non offri la qualità non ti arriverà mai la qualità e quindi dobbiamo cambiare noi approccio ed ecco dove la narrazione diventa importante passare dal concetto dei turisti questo a questo cambia semplicemente il movimento della mano ma cambia tutto cambia il modo in cui accogli cambia il modo in cui ti rapporti con le persone se accogli o chiudi allora la prima parola è la cura e questa qua finalmente è quella che mi passa il professor Volpe con questa me la sono giocata subito perché la resta è identità bellezza me la sono messa in fondo perché sai prima te la curi così si calma un pochino e così passo poi indenne dopo però vi faccio degli esempi velocissimi ma per la cura che abbiamo quanto invece siamo celtroni Noto Sicilia bellissima capitale arrivo lì patrimonio dell'UNESCO rotatoria patrimonio dell'UNESCO Noto Nord e Noto Sud e Noto Centro diobo scusate ma ma miseria ma perché non mi dici dov'è il Noto Centro perché devi lasciarmi incerto su una rotatoria a domandarmi sì ma dove l'hanno messo il Centro Storico perché non me lo vuoi dire che sai non capisco niente io prendo il simbolo in marrone vado all'ido di Noto che è esattamente dalla parte opposta mi sono fottuto la giornata la cura la cura dei dettagli la cura del questo l'altro giorno ero in Sicilia era Clea Marina allora è il primo esempio di cartello combinato distrutto che ho trovato come se i biscotti no sì ma questo è bellissimo questo è superiore perché è sono due cartelli distrutti che però riescono a indicare la cosa giusta perché era Clea Marina è un'indicazione ma ne hanno spaccati due e ne hanno fatto uno cioè siamo anche geniali in questo aspetta che sono andato avanti allora capiti tu arrivi lì e il sindaco di qua sei un po' incazzato perché quando ho postato questa roba ma perché non le piace? no è una porcheria ma che dici come ti piace? benvenuti ma non c'avete niente di meglio che un pezzo di cemento capisco la rigenerazione urbana con l'odi tu facci vedere prima il discorso del Corleone no? cacchio ma chi se ne frega bello vieni lì poi in un atto ti racconto anche il resto fatti sto selfie con l'odi Pinocchio è il secondo libro più venduto nel pianeta dopo Principe di Senesuperi no la Bibbia il Corano fuori non fanno testo Principe il piccolo Principe di Senesuperi c'è Pinocchio 240 lingue nel mondo tu arrivi a Collò e dici no la meraviglia delle favole il paese dei balocchi e delle favole no ecco quello qua come ti accoglie oltretutto bandiera arancione vabbè lasciamo stare si commenta da solo questa è la Grecia il paese che ha avuto le pezze al culo più pesanti della storia dei paesi occidentali come hanno agito male hanno avuto un disastro totale ma questa roba qua non l'hanno mai mollata la cura dei loro villaggi è calce è roba bianca non costa soldi è cura ma con questo qui sono sopravvissuti grazie al turismo nelle isole e alla bellezza di questi luoghi la cura costa poco è testa non hai soldi questo dice sì però noi non abbiamo posti solo belli abbiamo anche dei posti sfigati e come si trasformano? ce lo insegnano loro? come si trasforma? perché se tu guardi Leone Sanità vent'anni fa dici vabbè ci facciamo turismo qua dice ma tu sei scemo cioè è una cosa impossibile non l'ho più sfigato di questo non possiamo mai investirci e oggi si vede cos'è grazie a vent'anni di cura o quindici anni ma per esempio è banalissimo gli esempi che si possono copiare dice sì ma c'erano delle zone brutte le periferie degradate eccetera questa periferia di una favella di città del Messico hanno fatto il più grande murale nel Sud America cos'è colore? ma hanno creato turismo in un posto dove la gente se faceva spaccio era poco perché colore che è una cosa semplicissima ha creato identità ha creato un meccanismo quando noi raccontiamo queste sono alcune case italiane su Airbnb e tu vendi la tua casa e qui mi fa capire che abbiamo un problema proprio di testa nel nostro cervello come persone perché questo non è lo Stato è un singolo cittadino che mette la sua casa in vendita e mette questa foto che c'è un problema poverino c'è davvero un problema nella testa o questa no perché tu dici vabbè fa schifo la casa ma la vuoi togliere il mocio no cioè ma perché lo lasci e la metti la pubblichi guarda che è interessante il problema abbiamo un deficit mentale importante allora le case hanno delle caratteristiche questa è bellissima però non basta avere una stanza bellissima da offrire per un turismo soprattutto se non hai tre cose che ti spiegano chiunque il wifi scritto nella stanza again sono in un albergo bellissimo a quattro stelle ma me l'ha scritta sul bigliettino a mano dove era il wifi perché ti costa scrivermi in una stanza magari su un pezzetto di legno bello su un pezzetto di ceramica scritto a mano non lo so le prese queste ci sono per esempio però non ci sono le prese USB che comunque oggi è fondamentale perché uno evita di girare con 300 milioni di transformer e tutti abbiamo l'USB nel mondo perché non le mettiamo a Rione Sanità al Monacone al BNB c'è la presa USB tanto per dire la cura dei dettagli perché funziona un luogo perché sei curato fino ai particolari e bollitore ve l'ho già detto ma un posto bello e accogliente qui in un BNB ho trovato una busta che ho scritto benvenuto Emilio quant'è il costo di un foglio di carta che ho scritto benvenuto Emilio zero ma cambia tutto benvenuto a me a un'identità a una persona la cura Puccini ecco io ho trovato l'unica cosa che ho trovato sul mio foglio non lo dico perché non c'è lo dico davanti anche ai singoli ai sindaci e ai gestori degli alberghi queste cose gli fanno un po' male però cominciamo a affrontare la realtà anche l'unica cosa che ho trovato in narrazione identitaria di Cagliari è il costo del menu questa è l'unica cosa che c'è sulla mia scrivania di un albergo stellato di un posto bello di un albergo bello l'unica cosa che mi racconta Cagliari è questa hotel il menu e i prezzi nulla che racconti l'identità il territorio i dettagli che funzionano loro sono questi è questo questo dettaglio lo vedete con questa eccola sì giusto eccola questa roba qua è il dettaglio il fermacravatte del barista del barman dietro la caffetteria che c'è all'ingresso delle catacombe quando si arriva a questo livello di cura si è vinto se non arrivi non ragioni in questo modo fallisci è semplice non è che dobbiamo imparare tante cose diverse e Borgognazia ce lo insegna sono i migliori facendo cosa raccontando una cosa vera in maniera non cioè è autentica ricostruita ma hanno fatto il loro lavoro ha fatto bene ci insegnano cose vado avanti velocemente su quelle che sono le esperienze che possiamo fare arrivo all'identità che piace tanto come termine a dottor Volpe allora qual è la nostra identità qual è l'identità di un posto come la Sardegna in Uraghe oddio sì certo ne parte ma io non lo dicevamo anche l'altra sera perché dobbiamo ancorarci a questo quando l'Italia è una stratificazione impressionante di identità di tessere allora l'identità è questo l'identità è la storia quindi è Tarros l'identità è un villaggio che sembra uscito da un film anzi perché le hanno anche proprio fatti film ma dove non c'è nulla che in realtà porta a un turismo mentre in altri posti con una roba del genere ci avrebbero fatto una cosa fantastica l'identità è questa a me fa venire i brividi la bellezza di questo fa venire i brividi forse da italiani o da sarti non ci si rende conto che è una roba stratosferica cioè è una roba che fa commuove dalla bellezza di questo ma per non è normale sta lì chi se ne frega no ci va qualcuno basta questa è identità voglio dire che questa è identità saccarapigna allora l'identità per dire che noi cerchiamo in cui io voglio fare pace con questa parola forse se riuscirò a fare pace alla fine con il dottor professor Volpe alla fine di questa su identità e bellezza forse la sfango perché io voglio continuare a usare queste parole per questa roba qua per questo filo identitario che attraversa tutto dalle persone alle cose ai luoghi che sono figli di un percorso umano dobbiamo imparare a raccontare questa ieri c'era questa frase bellissima noi non crediamo abbastanza nella nostra retratezza è come il Molise che non c'è va bene raccontiamolo perfetto venite qua venite a perdervi siete un po' allogorati dalla vita moderna venite nel Molise che non c'è e state voi stessi trovatevi giochiamo su quelli che sono dei punti di debolezza e trasformiamoli in punti di forza l'arretratezza questo isolamento è un posto è una qualifica meravigliosa per affascinare il mondo e infine arriviamo alla narrazione io continuo da anni a vedere Endless Island questo è un problema invece soggettivo personale a me non riesco a capire che senso abbia questa frase perché è talmente cioè che ne capisco l'implicazione ma per me è disarmonizzante è disidentificante cioè io non so avrei detto radici deep road cioè qualcosa di forte sull'arradicamento delle radici non so per me Endless Island non è la Sardegna però non è un problema perché ovunque noi facciamo questa roba in Italia cioè sei in un paese meraviglioso che? scusami sì cioè sei cioè tutte le autostrade italiane dicono questo sei in un paese meraviglioso mica ti dicono perché fidati no bello e tu hai la reazione emotiva come di fronte a un paracarro perché adesso non si possono dire parolacce ma tu lo vedi invece sti cazzi perché no scusate però perché cioè sei in un paese meraviglioso e come perché quando perché non me la racconti l'emozione e la meraviglia che abbiamo questo è è impressionante l'arroganza che abbiamo di pensare di convincere qualcuno con questa scritta idiota anche perché tra parentesi se voi andate scoprilo a Acquaviva delle Fonti Est tu dici che c'è una cosa fantastica no è l'area di servizio dove c'è scritto sei in un paese meraviglioso e c'è quel cartello con la cornice d'oro dove sono scritte migliaia di parole tu fai il pit stop alle è chiaro che quando ti fermi all'autostrada all'autogrill sono pipì caffè velocissimi no ta 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 benzina ta via 15 secondi e tu fai quei cartelloni con 5000 notizie scritte in piccolissimo è impossibile leggerle è la negazione di quello che siamo così come la negazione delle nostre opere d'arte e questo su questo qui per fortuna so che non vado contro il professor Volpe ma questa qua l'ho fatta apposta per no ma perché devi spiegare cos'è un vaso il tripode dinghe bruciaprofumi che ibridizza due vasi rituali arcaici una ciotola gui e un tripode leading cioè lui forse lo sa cosa sono io mio padre quando esco fuori la mattina mi dice perché non ti prendi una ciotola gui e facciamo colazione non puoi saperlo come quando arrivino la grandiosa sostruzione io pensavo fosse un errore di ortografia ero alla villa di Adriano a Tivoli pensavo fosse ma veramente io non credo di avere una cultura bassa ma ero sicuro che è difficile costruzione scritto con la S poi la terza volta la quarta volta mi è venuto un codio magari è vera questa parola Google ed è una costruzione sopra una costruzione ma perché non lo scrivi come ti viene ma cioè perché ecco perché condivido l'idea del fascismo della cultura cioè il negare la democrazia della cultura cioè l'accesso ai contenuti e questo qua ero l'altro giorno giù era Clamino ha capito tu hai l'airballos il kilix l'anforetta corinze il gutus lo inocè la pisside cioè non ho capito una parola io di questa roba nulla e anche perché poi la nostra ecco queste sono le spiegazioni che facciamo questo è della settimana scorsa in Sicilia e comunque scusami mi devo spostare non riesco a capire sei anche deficiente te lo dicono da mezz'ora mi metto qua e queste sono le torno indietro di due cose ecco questi qua sono le bellezze di Eraclea Minot un posto meraviglioso tu pensa cosa hanno trasformato a Taormina e cosa hanno cosa facciamo qui ma poi la narrazione dei luoghi è questo cioè questo si è messo a fare una storia pazzesca a Siena in cui raccontava alla moglie una si è inventato in tempo reale dice no ma sai perché questo è elettricità è un americano diceva fotografava l'insegna la moglie ha chiesto perché fotografi quell'insegna e lui è andato su google translator ha letto piazzesi piazzesi ha letto piazza square quindi ha detto no questo vedi qui in Italia fanno dei negozi questo è il negozio che si occupa delle piazze apposta l'elettricità delle piazze ecco perché la piazza del campo di Siena è così bella perché hanno i negozi dedicati all'elettricità all'illuminazione delle piazze hai capito che grandi che sono gli italiani cioè si è inventato pure una supercazzola incredibile ma meravigliosa perché era talmente affascinato da quello che aveva trovato che non riusciva a staccarsi e questi sono i nomi delle strade vico esclamativo ma in Italia abbiamo nomi delle strade incredibili pensa anche quanti luoghi via delle pappe questa è la più bella pistoia ma tu vi abbi pazienza ma solo nelle strade abbiamo un patrimonio di narrazione fermo lì che aspetta solo di essere raccontato selfie trail facciamo le cinque terre grazie a questa foto sono il luogo che ha sdoganato il turismo 12 mesi all'anno grazie a una foto bella ma per ora non mi insegnavano una cosa uno Emilio vedi questa foto ci sono due elementi che devi capire uno che quel posto lì è colorato se ci fosse grigio farebbe schifo quindi i colori due da dove hai fatto la foto? dal molo se non ci fosse il molo che foto faresti? ecco la testa la progettazione se non c'è il molo non puoi fare la foto e raccontare quel luogo allora pensiamo a luoghi per fare le foto e adesso sto arrivando alla chiusura e tutto si mette insieme ecco perché monumenti aperti ha un senso ha un luogo luoghi da aprire per farli fotografare per farli conoscere basta con questa paura del selfie che è una minaccia mio nonno faceva le fotografie mi ha massacrato gli zebedei per serate intere a 400 diapositive a sera ed era mortale le diapositive mio nonno avesse avuto la macchina che si girava si sarebbe fatto i selfie fine oggi è fare una foto mettendoci la faccia la differenza è che si condivide in tempo reale e perché non è un'opportunità di identità di racconto identitario lo usano questa città grazie a una storia di un inglese molto bella d'amore e a un cortile inventato dove si fa i selfie a un milione di visitatori e tutta la città che è bella è raggiunta è utilizzata perché attenzione non è più il balcone il vero selfie è questo qui con le mani no perché anche in epoca di Me Too fanno tutti la mano sulle tette di Giulietta funziona così ma in realtà era questo sapete che è un falso questo era il cortile e per renderlo come era ossia renderla come era hanno guardato un film di Hollywood degli anni 30 e hanno reso questo bravi allora noi non dobbiamo fare fake ma dobbiamo raccontare imparare a raccontare perché la storia ovviamente era una storia inventata quindi non c'è nessuna cosa da Brunello Cucinelli non vende Kashmir vende Rinascimento vende la sua terra impariamo a raccontarla noi e vende tutto quanto così gli amarelli e questa questa invece lui la ama subito vedi come me lo coccolo perché sennò tanto chiude e dopo dice parolacce su di me questa cosa è narrazione è semplicemente narrazione è creatività arte è una basilica paleocristiana ricostruita da un artista vicino a Siponto è una rete metallica non è un rendering è rete metallica che ripropone la costruzione di una basilica paleocristiana sulle sue fondamenta risultato arte cultura architettura e emozioni in pochi anni in tre anni è diventato il secondo sito più visitato della Puglia dopo Castel del Monte in un posto sfigatissimo perché lui è di Foggia quindi sa cos'è quella zona di Manfredonia nessuno ci sarebbe mai pensato di andare e come loro andavano due o tre persone qui andavano due o tre persone a vedere quel posto grazie a arte cultura e coraggio ecco incominciare a avere coraggio e proporre la Repubblica Veneziana Serenissima prevedeva nel 1200 degli interventi secondo tre principi di sono 26 minuti ho ancora tre minuti e mezzo chiudo no è che lo tengo d'occhio la Repubblica Serenissima diceva gradualità non me lo ricordo il secondo e reversibilità gradualità condivisione reversibilità per i progetti gradualità condivisione reversibilità abbiamo coraggio per fare le cose dopo lì e questo conchiudo con i protagonisti perché quello che propongo sto cercando di proporre che è uno dei motivi per cui io spero anche penso che collaboreremo anzi sono sicuro con monumenti aperti è di affidare tutto quello che ho raccontato è frutto della mia esperienza personale ma c'è un livello superiore è creare lo spazio per nuove idee noi possiamo fare molto di più creando le condizioni perché altri prendono consapevolezza sono i ragazzi quindi cantieri di narrazione è semplicemente affidare ai ragazzi e ai futuri cittadini le chiavi della narrazione della nostra terra quindi si coinvolgono i comuni le amministrazioni si affidano ai ragazzi ci prendiamo la responsabilità di valutare i vostri progetti e poi i migliori li mettiamo in piedi ma non c'è un impegno economico solo di un impegno morale ad ascoltare poi le cose migliori in realtà funzionano i contenuti i strumenti sono infiniti abbiamo il coraggio di aprire gli orizzonti all'infinito se è una bella storia la raccontiamo fine non dobbiamo inventarci nulla ma se anche uno la inventa bene va anche bene una bella storia basta che sia dichiarato che è inventata ma gli strumenti sono infiniti diamo gli spazi che siano dai murales che siano ai luoghi alle panchine i ragazzi stanno realizzando qualsiasi cosa in giro per l'Italia sono creativi nati e sono social oriented di natura e allora questi ragazzi per esempio gli stanno facendo questi hanno detto facciamo murales dell'identità e queste due ragazzine che sono le due ragazze di un liceo hanno detto sì ma la nostra identità è lei è Marisella che vende da 70 anni lei ha 80 anni e da 70 anni quando ha 10 anni vende erbette in piazza e quindi è lei la nostra identità e l'hanno messa sul murales allora questa identità ma dopo i ragazzi hanno detto ok ma questa panchina facciamo delle panchine hanno disegnato le panchine a forma di libro ragazzi disegnate e le hanno fatti gli artigiani del posto e oggi la piazza già funziona ma adesso stanno riempendo di poesie in ceramica in maiolica e le stanno preparando per metterle giù questo significa riappropriarsi degli spazi significa dare una dimensione di nuovo in cui la narrazione dell'identità San Gennaro non funziona se non ci fosse loro con le loro facce non è un museo non è una catacomba in cui entri racconti quello che c'era là dentro ci sono delle persone e la narrazione dell'identità è quell'emozione che noi dobbiamo collegare aprire monumenti non ha senso se è semplicemente per descrivere ma è un riappropriarsi ecco perché funziona questa cosa ecco perché tutto si connette la narrazione l'identità la bellezza il il wall club dove erano oddio dove è andato eccolo là il wall club è questo è persone se no non funziona questa cosa come il selfie su Corleone è uno strumento ma ci sono le persone poi che racconti che funzionano che fanno funzionare tutto il sistema allora tutto per creare poi una promozione permanente gli eventi sono uno dei più grandi cancri che abbiamo nella promozione del territorio dove si investono infinite risorse per un momento e solleticare l'edonismo di un assessore o di un sindaco e poi tutto viene vanificato invece dobbiamo ragionare in maniera permanente e questa è la progettazione in cui io vorrei contribuire e in cui tutti stiamo andando quelli che ragionano in un certo modo e creare spazi creare una narrazione creare un nuovo riappropriarsi della nostra terra ecco e su questo mi perdonerà ma l'ho fatto non l'ho fatto a posto però tanto su Vitruvio non mi può contestare nulla lui che è tanta anarchidetta e qui non me lo può negare questa citazione che allora anche sulla bellezza in realtà quella di il discorso della montagna di Peppino Impastato sarà ultra retorico sarà ultra citato ma a me emoziona ogni volta che lo sento e l'ho sentito migliaia di volte quello che dall'aeroporto nel film i cento passi dice cos'è la bellezza ecco Vitruvio ci diceva che per Vitruvio era un architetto del primo secolo avanti Cristo e diceva che per fare funzionare i palazzi le cose per fare un'opera che durasse nel tempo o loro hanno durato durano due mila anni quindi ha ragione è certificato servivano tre principi la firmitas l'utilitas e la venustas la firmitas e la solidità fare le cose fatte bene materiali buoni ma anche i progetti vuol dire idee buone messe a un livello di test di stress test non le prime cazzate che ci vengono in mente l'utilitas è la cura è l'umiltà è l'ascoltare mettersi dall'altra parte pensare a chi serve non a quello che piace a noi fare se no dici no ma non funziona ma ti sei domandato se funzionava poteva funzionare no e infine la venustas la bellezza e quello che diceva Peppino Impastato dove diceva sì ma la gente si abitua a tutto cosa servono a rivoluzione se non insegniamo se non insegniamo alle persone il valore della bellezza non come elemento estetico astratto ma come elemento che ci contraddistingue dentro ecco dove io mi voglio riappropriare ancora pur essendo una parola ormai anche logora della parola bellezza perché è quello status non estetico ma lo status di un'anima che si che recupera la consapevolezza del valore e come diceva Peppino Impastato perché è da quella che discende tutto il resto grazie grazie a tutti grazie a tutti